Stavo affrontando i temi, quelli giusti, stavo affrontando l'intervista e il mio commento su come Arnone sottoscriveva contratti con gente condannata a sei anni e mezzo per mafia. Non puoi dare solidarietà a questa indecenza, non puoi dare solidarietà a questa indecenza. Dillo ad Arturo Candella il mio nome, ad Arturo Candella il mio nome. Ma qual è la pagliacciata? Mi sospendi un attimo per fare l'intervista? Ma aspettate dai, ci sta parlando. Io non me sto andando, sto facendo un'intervista con loro. Sei semplicemente un miserabile, tu resti lì, poi ci vai come sai fare tu. E ti vuoi che non deve dare questo tipo di... Scusa, ma di mio nome c'è, io non sto andando, perché devono andare a volare. E paga mio figlio, querega, querega. Completa, dai. Completa, querega. Completa. No, no, completa. E' una conferenza stampa con i giornalisti. Siccome sono un democratico, contento di fare. Scusa, io sono un testa di cazzo. Scusa, io sono un testa di cazzo. Io sono giornalista con Berliano. Fammi un intervista. Basta, basta, dai, ragazzi. Se sei un giornalista intervista. Scusatemi, signore. Prego. Mi stavamo a sentare. Non ci può, non ci può.